Nella desolata landa americana dell'Oregon, una tragedia spezza una famiglia. Il quindicenne Shep viene ucciso durante una rapina. La madre Irene, nell'attesa dell'esecuzione dell'omicida di suo figlio, capisce che quella morte non cancellerà la sua disperazione e decide di affrontare l'assassino. Una madre non dimentica è una storia di amore e redenzione, un romanzo sul vincolo indistruttibile della famiglia e sul potere del perdono.